Ciao, benvenuti sulle videoguide di lofaionline.it In questa guida vediamo come effettuare semplicemente un reso Amazon. Vediamo l'operazione dall'app, ma da computer è praticamente uguale. Per prima cosa quindi, procediamo ad aprire l'app. E quando siamo nella schermata principale, clicchiamo in alto a sinistra sulle tre linee indicate dalla freccia. Ci si aprirà un menu, da cui clicchiamo su i miei ordini come vediamo indicato. Nella nuova pagina vediamo tutti i nostri ordini effettuati. Da qui, dobbiamo selezionare l'oggetto che vogliamo restituire cliccandogli sopra. Dopo aver cliccato, siamo nelle specifiche dell'oggetto. Da qui come vediamo nell'immagine, clicchiamo su restituisci o sostituisci articoli, indicato dalla freccia. Adesso dobbiamo scegliere il motivo per cui stiamo restituendo l'articolo, selezionando quello più pertinente tra quelli che vediamo. Procediamo verso il basso e dopo aver scelto il motivo del nostro reso, clicchiamo su Continua. Poco sotto, leggiamo la data entro cui dobbiamo effettuare la restituzione. Nella nuova pagina, se vogliamo, possiamo aggiungere un commento sul motivo per cui stiamo effettuando il reso. Nel passaggio successivo ci chiede se vogliamo sostituire l'articolo o ricevere un rimborso. Se vogliamo un rimborso, dobbiamo selezionare dove vogliamo riceverlo. Nel nostro esempio scegliamo di ricevere il rimborso sulla carta che usiamo normalmente per Amazon. Possiamo anche scegliere di ricevere il rimborso su un conto Amazon. Dopo aver scelto come ricevere il rimborso, clicchiamo su Continua, come indicato nell'immagine. Adesso ci chiederà come vogliamo fare arrivare il reso ad Amazon. Possiamo scegliere tra le opzioni disponibili, che possono variare a seconda della zona in cui residiamo, della dimensione dell'oggetto, e altri fattori. Scorriamo poi il verso il basso per vedere le opzioni. A questo punto dovremo scegliere tra le opzioni disponibili. A seconda del corriere, si potrà anche scegliere se richiedere il ritiro a domicilio, o se portarlo presso un punto di ritiro. Per trovare il punto di ritiro più vicino basta che clicchiamo sulla dicitura indicata dalla freccia più in alto. Trova il punto di ritiro più vicino, che ci porterà al sito del corriere, dove inserendo la città ci mostrerà i punti di ritiro disponibili. Una volta effettuata la scelta, continuiamo cliccando Conferma l'indirizzo di reso. Dobbiamo restituire l'oggetto nelle stesse condizioni in cui l'abbiamo ricevuto, senza imballaggio, ed eliminando tutti i nostri dati dalla scatola ed eventualmente dall'articolo, come ad esempio abbonamenti, password o altre informazioni personali. Riclicchiamo quindi, Conferma l'indirizzo di reso, e continuiamo. Ecco inoltrata la richiesta per il nostro reso. Ora dobbiamo acquisire il codice che dovremo mostrare al punto di ritiro. Per farlo, clicchiamo su, Visualizza il codice di reso. Lo stesso codice e un riassunto della richiesta, verranno inviate anche alla mail o al numero con cui ci siamo registrati. Ed ecco un esempio del codice a barre, con codice numerico, che dobbiamo fare vedere al punto di ritiro, dove verrà scansionato. Se non lo legge, andrà inserito manualmente dall'operatore il codice numerico. Il punto di ritiro potrebbe chiedervi qualcosa per la stampa dell'etichetta, ma non accettate di pagare più di un euro. Per verificare lo stato del reso, possiamo cliccare su, Visualizza lo stato reso e rimborso, indicato dalla freccia, oppure andare su, I miei ordini, e sull'oggetto restituito, come fatto a inizio guida. Da, I miei ordini, tra gli articoli vedremo quello per cui abbiamo avviato il reso, e per vederne lo stato di avanzamento, li clicchiamo sopra. Vedremo quindi un resoconto dell'articolo e delle informazioni inviate durante la procedura di reso. Per vedere l'avanzamento della pratica, clicchiamo su Traccia il tuo reso e il tuo rimborso, come indicato dalla freccia. Da questa pagina possiamo vedere tutte le tappe che dovrà seguire la procedura di reso, e l'avanzamento della pratica. Amazon riceverà l'articolo, e una volta verificate le motivazioni della restituzione, provvederà a effettuare il rimborso nella modalità scelta. A noi il rimborso è arrivato dopo 6 giorni. Come fai? Lo fai online. Grazie. 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 Grazie.